ciao a tutti amiche amici benvenuto bentornate sul canale per un nuovo video allora e oggi non svuota la spesa sono appena tornata da fare la spesa stavolta sono stata all'esse lunga perché avevo un buono da 8 euro da spendere sul totale di 70 euro ogni tanto esse lunga mi manda questi buoni e quindi approfitto per andare a fare la spesa ho speso 99 euro e 97 e quindi una bella spesa però c'era sia il buono da 8 euro quindi sarebbe stata una spesa appunto da 8 euro in più e però ci sono due prodottini di più ti che non vi faccio vedere in questo video vi farò vedere in un altro video che forse pubblicherò prima non so e ad ogni modo diciamo che sarà una spesa alimentare di circa un'ottantina di euro vi dico i prezzi che mi ricordo ragazze ma vabbè tanto non è importante credo poi se avete qualche curiosità magari ve lo potete scrivere nei commenti ve lo dico allora mi comincio a farvi vedere i purgelati ho preso le melanzane grigliate queste sono 450 grammi di prodotto li prendo spesso e della marchese lunga vedete sono buoni surgelati dell'esse lunga e niente me le faccio visto che adesso sono a dieta me le faccio in padella o con un po di pomodoro oppure le mangio così scaldando le un pochettino la piastra con un po d'olio prezzemolo così poi ho preso gli spinaci foglia a foglia surgelati sempre della marchia della marca esse lunga che stavano in offerta 1 euro e 19 se non mi ricordo male poi ho preso del pesce surgelato perché il pesce fresco era completamente finito cioè c'era poca scelta comunque quindi ho preso comunque il pesce surgelato dove invece c'erano delle buone offerte tipo questi filetti di orata della marca cuoco di bordo questi qui avevo provato già altri prodotti e sono buoni di questa marca sono 400 grammi di prodotto e li ho pagati in offerta 5 euro e 50 circa devo dire che c'erano delle buone offerte già nelle si lunghe cara una buonissima parte questa infatti conto di forse tornare prima che scada il volantino dell'esse lunga che è iniziato comunque da poco per cui dovrei diciamo essere dovrei riuscire ad andarci magari per rifare il rifornimento di queste cose e sono i filetti di platessa della findus questi sono i miei preferiti erano in offerta 5 euro e 99 costano molto questi in genere e in genere quando l'esse lunga appunto li mette in offerta tendo a fare scorta prendo anche quelli alla conad quando non trovo questi in offerta ma questi li preferisco qui dice spinati con cura è vero poi piacciono anche a mio figlio ideale anche per i più piccoli c'è scritto infatti è vero gli piacciono tantissimo questo mio figlio fonte di iodio fonte di proteino proteine e fonte di fosfero senza conservanti aggiunti come per legge poi ho preso una pizza di questa marca buona le le pizza dita il pizza sono molto buone ho preso la verace semplicemente una pizza margherita questa l'ho presa per il bambino perché a volte durante la settimana la sera magari non so che cosa fargli mangiare a lui gli faccio una pizza surgelata che gliela metto in forno in un quarto d'ora e io mi mangio qualcos'altro che lui magari non vuole mangiare poi mi sono voluta prendere questi burger vegetali della kioene questi erano un'offerta un euro e trenta circa la pizza un euro e cinquanta non so se avevo detto anche quella era in offerta e quindi buoni prezzi devo dire buone offerte in questo momento da esse lunga perché una signora ne stava prendendo in quantità industriale e loro approfittato a chiedere ma sono buoni le metto si sono buonissimi le mangiavo anche io nella dieta siccome la dietista mi ha dato questi burger proviamo a me questo genere di prodotti come vi ho già detto non piace ne ho anche comprati di freschi altro genere però voglio provare perché realmente purtroppo nella dieta si mangiano sempre le stesse cose quindi per variare un attimino ho detto proviamo a mangiare a cominciare a mangiare queste cose chissà che non mi appassioni ecco i surgelati che avevo messo in questa bustina sono finiti poi vi faccio vedere un po random quello che pesco ragazzi allora preso questa bottiglia di olio di semi di girasole della all italia era in offerta a 4 euro e 19 se non mi ricordo male allora questo olio di semi di girasole avevo completamente finito l'olio per friggere in generalmente cifrego le cotolette per il bambino e allora io sono un po fissata con l'olio di semi di arachidi perché mia madre mi ha tirato su così cioè dicendo che inculcandomi il fatto che la frittura viene buona con l'olio di semi di arachidi per cui diciamo che volevo comprare compro sempre quello all'esse lunga costa una fucilata tre euro un litro di olio di semi di arachidi circa tre euro e trenta questo vabbè stava in offerta due litri a quattro euro ho detto vabbè dai provo poi se non mi piace pazienza la prossima volta ricomprerò il solito olio di arachidi ho detto vabbè allarghiamo un po i nostri orizzonti non fissiamoci poi ho preso una confezione di aceto di vino della smart questo mi serve per pulire perché l'altro giorno dovevo ripulire una credenza perché c'era c'erano i moschettini purtroppo e in genere lo faccio con acqua aceto quando mi mi capita che non ce l'avevo avevo completamente finito l'aceto poi vi faccio vedere la carne che ho comprato ho comprato queste quelle compro spesso le bistecchine in odini di suino italiano della linea smart sono 600 grammi di prodotto e stanno in al chilo 5 99 questa confezione l'ho comprata 3 euro e 70 a me mio figlio piace molto la carne di maiale poi mi ha chiesto il pollo perché lo avevamo completamente finito e gli ho preso le sovracosce di pollo senza pelle queste non erano in offerta sono 781 grammi di prodotto sta a 6 e 59 al chilo e questa confezione l'ho pagata 5 euro e 15 poi sempre di carne così finiamo con la carne ho provato ho comprato una confezione di hamburger classici della linea naturama per farci i panini hamburger questi erano scontati al 20 per cento ma comunque costano sui 350 scontati per cui penso insomma è caretta questa carne però è buona a proposito di panini hamburger gli ho preso questi panini hamburger della morato questi scadono a maggio a me purtroppo succede succede che vanno male a volte perché il bambino si mangia i panini hamburger però una volta ogni tanto non lo so forse dovrei congelarmi congelarli ditemi voi mamme all'ascolto se si possono congelare questi panini se conservano la bontà la morbidezza di quando appunto la confezione appena aperta poi sempre per faccio da qui mi devo chinare ragazze perché purtroppo qui non ho spazio questi queste sottilette burger con cheddar senza conservanti praticamente all'esse lunga c'era la foto del il miglior hamburger c'è proprio un tipo una specie di locandina e c'erano questi questi hamburger vabbè il ketchup quello della hens ma che ce l'abbiamo queste sottilette e dei cerci c'è i triolini in imbarattolo i cetriolini non li ho presi perché non li ho presi perché lui non li mangia però quando ricomincerò dopo che sarò dimagrita che magari mi vorrò concedere uno sfizio ogni tanto vorrò comprarmi quei cetriolini imbarattolo e provare l'hamburger dell'asse lunga come lo consiglia l'asse lunga ecco poi come affettati non ho comprato granché perché mi erano mi sono ancora avanzate cose che avevo comprato a lidl e all'eurospin perché comunque non vanno male in fretta e anche perché gli affettati all'asse lunga costano veramente tanto ragazze per cui tendo a prenderli solo quando sono in offerta e questa era una buona offerta perché due confezioni di prosciutto cotto della bellentani stavano in offerta 2 99 da 120 grammi luna quindi i 2 99 2 tutti i corti poi ho voluto prendere questo affettato di mare pronto da gustare della coraia ideale per antipassi e come secondo piatto non è che mi sperasse che anche ragazze però sono dieta che dobbiamo fare non c'era pesce fresco detto vabbè prendo questo e poi anche perché costava poco era in offerta un euro 81 se non mi piace non lo ricomprerò più ovviamente poi sempre in tema di cose vegetali ho detto vabbè diamoci per cominciamo a provare questo genere di prodotti perché appunto se non mangio se non vario un po con questi nella mia alimentazione della dietista mangio sempre le stesse cose uova carne pesce uova carne pesce uova carne pesce allora ho preso siccome ne avevo sentito parlare bene forse da barbara non mi ricordo in un canale poco tempo fa queste due prodotti della garden gourmet e sono delle polpettine di una di verdure eccola qui se qualcuno di voi ha provato questa roba fatemi sapere come sono questi sono 200 grammi si ci mangerai due volte qui perché di carne ne ho 100 grammi se non mi ricordo male o 200 di burger vegetali queste cose così non mi ricordo comunque queste qui sono con carote piselli e mais mentre invece queste perché io mi ricordo che questa persona forse barbara del canale barbara m channel se mi stai ascoltando ti mando un bacio forse sei stata tu la visse da te queste non mi ricordo mi ricordo questa scritta falafel ho detto vabbè e prendo anche queste che sono con i ceci e gli spinaci poi ho preso una mozzarella vallelata per il bambino da 200 grammi si sono 200 grammi di prodotto la mozzarella era in offerta un euro e venti poi le mie solite uova dell'estelunga bio stavano ancora in offerta 1 euro e 59 in genere costano 2 euro e 10 circa 2 euro e 15 sono le mie preferite non riesco a cambiarle perché hanno un sapore diverso secondo me buono e siccome io le uova comunque per la maggior parte le faccio all'occhio di bue o comunque strapazzate mi piace sentire il sapore scusate dell'uovo molto buono e queste secondo me sono le migliori poi vi faccio vedere un po di verdura zucchine erano in offerta molto belle queste a 2 euro e 38 al chilo c'hanno anche i fiori sono quasi mezzo chilo e l'ho pagata questa confezione 1 euro e 12 poi misticanza rustica dell'estelunga circa 99 centesimi era in offerta anche questa piccolina mista germogli qui c'è pan di zucchero radicchio rosso rucola germogli di fagioli a zucchi verdi questo non l'ho mai provata sempre 99 centesimi ma ho deciso di prenderne non due confezioni grandi perché a volte mi va male poi mi sono voluta prendere questa confezione di peperonata fresca da fare già tagliata perché a volte capita che vado di fretta ragazzi soprattutto durante la settimana non ho tempo di diciamo di stare poi mi attirava circa 3 euro un po meno di 2 euro tipo 2,98 mi è venuta voglia di peperonata e siccome nella dieta chiaramente non è che posso mangiare chissà che queste sono cose che posso mangiare ho detto vabbè prendiamola anche perché ci sono le carote a me non piacciono le carote in genere è un'occasione buona per mangiare le carote e sono appunto 500 grammi di prodotto che fa già bella e pronta poi ho comprato sul consiglio della manu che è una ragazza che mi segue ho comprato questi romi misti toscani dove c'è dentro un po rosmarino all'oro salvia un po di tutto prodotto in toscana dice stanno circa un euro e cinquanta più o meno e la confezione è stata preparata ieri per cui va bene poi cavolini di bruxelles questi forse erano un po cari una confezione da 500 grammi l'ho pagata due euro e sessanta circa purtroppo assoluta verdura cara poi finiamo con la verdura pomodorini questa è una confezione questo è molto grande però è una vaschetta da la quantità perché è sotto la comunque secondo me sono mezzo filo di prodotto queste 300 400 grammi di prodotto questi stanno circa 2 euro 80 più o meno pomodorini costano cari all'asse lunga e a volte li mettono in offerta ma oggi non erano poi ho preso i pomodori cuore di bue che erano molto bellini magari ve li faccio vedere cioè bellini a me piacciono indietro guardate era molto bellino il pomodoro eccoli qua tanto poi li mettono in frigo sfusi e questi stanno al chilo 2 98 e questa confezione da quasi 800 grammi l'ho pagata 2 euro e 23 poi mi sono presa tre banane per me perché eccole qua tanto poi dopo tre banane che sono abbastanza indietro perché io le posso mangiare nella dieta bambino non è tanto amante delle banane per cui tendo a non comprarne troppe poi questo pronto limone bio che compro spesso costa circa 1 euro 80 era rimasto era rimasta senza o anche i limoni normali però queste cose le tengo per emergenza quando non non ho limoni o quello ecco non vado apposta non esco apposta a comprare i miei limoni poi una confezione di panna granarolo cucina d'arte questa nelle confezioni piccoline per fare la pasta con la panna i tortellini alla panna per mio figlio io ovviamente non li posso mangiare poi queste noci del brasilio in questa confezione da 30 grammi queste per la mia dieta ne posso mangiare 20 grammi a merenda di questa frutta secca 99 centesimi questi più che altro per tenerlo in borsetta se sono in giro e chiaramente devo mangiare poi ho preso due confezioni di fragole una della natura ma allora c'erano anche le fragole in cassetta molto più convenienti come presso però vengono dalla spagna ragazze io magari per tante cose alimentari in noma per queste cose sono un po fissata che devono essere italiane perché contengono molti pesticidi quelle cose lì no e quindi ho preso queste della natura ma che sono dicono le più buone almeno in un gruppo di di esse lunga che seguo su facebook dicono che queste sono le fragole più buone che si trovano all'esse lunga sono appunto queste della marca natura ama e sono le fragole della basilicata 100 per cento italiane e poi queste altre che però sono sempre italiane e sono fragola varietà melissa origine italia campana quindi comunque sempre italiane queste costano meno 238 voglio vedere se c'è tutta questa differenza tra le due come dicono in questo gruppo poi tarallini questi per i miei li ho comprati non per me né per il mio figlio li voglio portare ai miei colleghi domani mattina perché loro praticamente mangiano vanno sempre alla macchinetta a prendere i taralli e gli piacciono molti taralli avevo sentito parlare bene di questi erano in offerta circa un euro e sessanta e niente voglio fare questo pensierino ai miei due colleghi maschi io sono in ufficio con due maschi ne sono felicissima perché nella mia vita sono sempre stata in ufficio con femmine stavolta invece sto con dei maschi e mi trovo benissimo devo dire e anche perché le femmine sono un pochettino più acide e non che i maschi non abbiano i loro difetti però così questa esperienza nuova mi sta piacendo di stare in un ufficio in tre persone con io l'unica femmina due maschi è responsabile anche un maschio quindi sono praticamente circondata dai maschi mio figlio un maschio sono circondata da maschi quindi non cerco fidanzato perché già di maschi ne ho così no sto scherzando poi torniamo alla spesa allora il parmigiano reggiano grattugiato questo della marca colla i nostri formaggiai dal 1921 questi erano queste erano offerte a un euro e 50 circa stiamo quasi finendo poi una bottiglia di olio questo qui del della marca filippo berio estratto a freddo sostenibile tracciato all'extravergine di oriva 3 euro e 70 chiaramente questi sono quelli provenienti dagli oli dell'unione europea si origine unione europea che uso per cucinare per quanto riguarda condire l'insalata eccetera crudo uso olio più pregiato e più buono in genere poi una confezione di latte una sola perché comunque adesso sono a dieta ne bevo meno sono sempre 150 grammi al mattino però prima ne bevevo anche il doppio questo qui della linea s lunga equilibrio perché la dietologa mi ha tolto il latte con il latte con lattosio e mi ha dato solo il latte senza lattosio e devo e mi ha tolto alcuni alimenti tipo i legumi a parte le lenticchie che gonfiano un po perché io tendo appunto a gonfiarmi di pancia e di stomaco e devo dire che ha ragione cioè non mangiando queste cose legumi non li mangiavo neanche prima però togliendo un po il lattosio sinceramente non che abbia scoperto l'acqua calda mi sento più sgonfia poi per il bambino ho preso questi due succhi della skipper di ace che erano un'offerta 80 centesimi cioè vedete l'esse lunga è cara però questa è una buonissima offerta perché questi sono degli ottimi succhi 80 centesimi l'uno è un ottimo prezzo a l'ultima cosa un prodottino per la casa questo ammorbidente concentrato al palco e bambù della linea natura s lunga che non ho mai provato stava in offerta un euro e 19 mi pare qualcosa del genere ecco direi che vi ho fatto vedere tutto per questa spesa erano circa comunque 10 giorni 11 giorni che non facevo la spesa dall'ultimo svuota la spesa euro spin per cui ho bisogno di fare un pochettino di rifornimento e niente fatemi sapere cosa ma cosa mangiate voi datemi qualche consiglio sia alimentare che dietetico io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti